Il Comune ha preso la strada giusta che si chiama Corso Milano, lo dicono i commercianti del boulevard più trafficato di Padova, che non vedono l'ora che venga creato il parcheggio all'ex caserma Prandina. Non posso arrivare alle 8 per dover cominciare a lavorare alle 9, cercare, cercare e poi non è più possibile vivere così. Quindi al Comune cosa chiedete? Un aiuto ai commercianti, alla gente che giustamente deve venire a spendere i suoi soldi. I parcheggi che ci sono adesso non si ferma nessuno e nessuno riesce a parcheggiare vicino alle nostre attività, per cui un parcheggio penso che sia la cosa più utile per noi e per le nostre attività. E anche per la sicurezza, penso che sia una cosa valida anche per la sicurezza della zona, perché visto che qualcuno parcheggia anche selvaggiamente è anche giusto avere uno spazio appropriato. Sulla tanto attesa opera pubblica le raccomandazioni di una residente. È una buona idea finché tengono il parco, gli alberi vengono mantenuti e il parcheggio si fa al di là del parco. Se dovessero abolire gli alberi, abbatterli, fare il parcheggio sotto le mie finestre, va da sé che non mi piace tanto. Il progetto del Comune pare preveda che una volta creato il nuovo parcheggio, spariscano le aree di sosta a pagamento lungo il corso. Aree già ridotte in questi giorni con il contestato ripristino del carico-scarico per tutto il pomeriggio e non più solo fino alle 15, come deliberò la giunta precedente. Un motivo in più per chiedere a quella attuale di fare presto con il parcheggio. Alex Prandina. Per quando lo vorrebbe pronto? Per domani, per domani. Prevedo un po' di affari in più? Beh, gli affari è tutto da vedere. E se succederà cosa farete? Una grande festa. Invitiamo tutti.